Buongiorno a tutti, sentite questo rumore perché sto per fare la doccia, sono svegliata da circa 10 minuti, ho fatto palazzo e adesso mi farò la doccia Ok, finita la doccia, adesso asciugherò i capelli, ho iniziato già un po', mi sono dimenticata di farvelo vedere quindi ve lo dico adesso, ho sesso Non sono andata, quindi, tu sicuramente lo comodirà Ho fatto un trucco molto molto semplice, ho fatto un trucco molto molto semplice, niente di che andrò a mettere poi il rossetto rosso E nulla, sono vestita in tuta, non so se riuscite a vedere, perché tanto mi cambierò lì, quindi niente, adesso vado da mamma e andiamo a mangiare Ok, siamo arrivati a prendere mamma e adesso andiamo a mangiare Ciao Siamo a Torino, stiamo andando all'evento Niente, i miei capelli sono già in condizioni obbriobriose, che ne pensi mamma? Sono bellissimi Siamo arrivate davanti a Pinky, ve lo faccio vedere, qui, e adesso inizieremo le preparazioni per l'evento Siamo qui al Pinky Party, io mi sono già cambiata, questo è l'outfit E niente, vi stiamo aspettando, vi farò vedere appunto chi verrà, se verranno Ciao Sì, grazie Sì, grazie Sì, grazie Sì Sì . l'evento è finito noi stiamo tornando a casa è stato molto bello mi è piaciuto tanto grazie a tutti quelli che sono venuti che hanno voluto fare una foto con me e niente grazie